vediamo in questo tutorial come funziona l'app di google traduttore per smartphone la versione per smartphone infatti ci offre una serie di funzionalità che non sono presenti nella versione browser funzionalità molto utili se siamo in viaggio e abbiamo bisogno di traduzioni veloci e simultanee o molto utili anche per esempio a scuola dal punto di vista dell'inclusione dell'integrazione se c'è per esempio un bambino straniero che non parla la nostra lingua e almeno per il primo periodo vogliamo aiutarlo a farsi comprendere e a comprenderci con uno strumento molto intuitivo e semplice da utilizzare ma andiamo subito a vedere di che cosa sto parlando come prima cosa dovete scaricare l'app dal vostro play store e quest'icona che vedete al centro del display del mio telefonino è l'icona di google traduttore ci clicchiamo sopra questa è la home page in alto possiamo vedere la funzione che tutti conosciamo ovvero quella che ci dà la possibilità di digitare facilmente un testo e tradurlo nella lingua desiderata abbiamo poi sotto tre funzionalità molto interessanti invece che non sono presenti nella versione per browser la funzione fotocamera la funzione conversazione e la funzione trascrizione la funzione fotocamera ci dà la possibilità di fotografare un testo di inquadrarlo e tradurlo velocemente funzione molto utile nel momento in cui vogliamo tradurre velocemente un cartellone pubblicitario un avviso o comunque abbiamo un testo che non possiamo digitare con la nostra tastiera immaginate per esempio proprio un testo in russo avremo qualche difficoltà a digitarlo per poterlo tradurre a meno che non cambiamo le impostazioni della nostra tastiera ma sarebbe comunque difficile allora a quel punto noi semplicemente attiviamo la fotocamera e inquadriamo il testo che vogliamo tradurre ciao come stai come vedete la traduzione praticamente simultanea in cui noi inquadriamo quel testo le altre funzionalità utilissime sono la funzionalità di conversazione e la funzionalità di trascrizione la funzionalità di conversazione ci dà la possibilità di parlare nella nostra lingua e mostrare la traduzione simultanea a chi ci sta ascoltando che a sua volta può parlare nella sua lingua e noi possiamo vedere la traduzione simultanea in questo momento non posso far farvela vedere per il semplice motivo che sto utilizzando l'input vocale del mio del microfono del mio telefonino per registrare il tutorial e quindi non posso utilizzarlo anche per l'app del google traduttore ma si tratta di una funzionalità davvero utilissima possiamo impostare la lingua semplicemente cliccandoci sopra oppure possiamo impostare la rilevazione automatica e sarà google di volta in volta a rilevare la lingua e tradurla automaticamente si tratta comunque di una funzionalità davvero molto pratica che può essere utile se per esempio abbiamo bisogno di chiedere delle informazioni importanti quando siamo in viaggio e come vi dicevo può essere utile per aiutare persone che non parlano la nostra lingua l'altra funzionalità utilissima è quella che ci permette invece di trascrivere delle discussioni la funzionalità trascrivi anche in questo caso non posso registrare l'audio perché l'input lo sto usando per registrare il tutorial ma anche questa è una funzionalità molto pratica e veloce nel momento in cui noi parliamo tutto quello che diciamo viene trascritto nella lingua che abbiamo impostato possiamo poi cambiare anche la misura dei caratteri possiamo scegliere un tema e possiamo poi facilmente salvare la nostra trascrizione cliccando sulla stellina che c'è qua in alto a destra nel momento in cui andiamo a trascrivere una una discussione per esempio anche quando ci troviamo in un gruppo di persone che parlano una lingua che non conosciamo sarà bene sempre chiedere il permesso perché in questa in questo caso entrano in gioco anche alcuni aspetti relativi alla privacy le trascrizioni una volta che le abbiamo salvate cliccando qua sulla stellina in alto a destra ce le ritroveremo poi sempre disponibili nel nostro menu come vedete si tratta quindi di un'applicazione molto utile molto semplice da utilizzare e sicuramente funzionale anche dal punto di vista dell'inclusione e dell'integrazione grazie